Vuoi vedere come lo scoppio? Assolutamente! Miro e... Salve, studenti! Sparo! Buona fortuna! Ecco! Ho fatto centro! Hai visto? Fai sul serio! Bel colpo, vero? Stupendo! Ehi! Che succede? Accidenti, qualcuno vuole caramella? Grazie! Grazie mille! Qualsiasi cosa per i miei studenti A me non fanno gli scherzi Odio i bambini, tutti loro Qualcuno ride? Ci assentite? Comunque sia C'è mancato poco Hai fame? Sì Delle ottime caramelle Oddio! Sono caramelle quelle! Ora basta! Oh no! Siamo spazzate! Oh scusami tanto Che paura! Aspetta la penna! Per favore no! Non voglio morire! Oh no! Volete fare le furbe? Ora basta! Mi sentite? Le mie orecchie! Basta, aiuto! Bene! Non mi lasciate altra scelta? Questo dovrebbe tenervi tranquille Sono così brava! Dunque, ci sei? Riesci a crederci? Studenti? Salve? È esilarante! Il meme più divertente di sempre, vero? Ho perso il controllo Cosa sto sballando? Riproducilo ancora! Pronte? Zitte! Nintendo, fate meno rumore Che tipa, sì davvero? Cosa? Stanno ancora ridendo! Ora basta! Ora vi faccio vedere io Ragazze, guardate qui È quello che penso che sia Che bello! Questa è la classe più figa di sempre Grazie! Ora andate alla pagina 39 Va bene classe Oggi c'è una lezione molto importante Aspetta, ma quella è una gomma? Oh, no, 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 no Sputala per favore Forza! Non è possibile! È così, eh? Ho un'idea! So cosa fare per farmi obbedire Trasformiamolo in un gioco Una partita di basket Chi vuole giocare? Ma dai! Io voglio giocare! Anch'io! Vai! Ehi, ho fatto centro! Anch'io! Uno alla volta, ok? Oddio ai capelli! Sì, di nuovo! Fantastico! Ehi, qui ce ne sono altre! Ottimo! Facciamolo! Sì, ho vinto! Sono contenta che vi stiate divertendo Ora torniamo al lavoro Grande! Sì! Sì! Oggi è il giorno dell'esame Siete felici? Oh no! Odio questa classe! Voglio la perfezione, come sempre Ehi, guarda un po' Dove possiamo mettere la gomma? Forse qui? Ottima idea! Ce ne sono tantissime! Sì, hai ragione! Ho voglia di masticarne un'altra! Grazie amiche! È così buona! Adoro masticare gomma! È deliziosa! Buona! Gomme da masticare, eh? Cosa vi credete di fare? Niente gomme in classe! Oh no! Va bene, prof! Ce ne sbarazzeremo, ok? È stato divertente finché è durato! Prendiamone da qui sotto! Ecco! Presa! Ti dispiace se prendo questa? Un vero capolavoro! L'ultimo pezzo e... Stavamo facendo arte! Voilà! È per lei! Oh, che bello! Ma è comunque fatto di gomma ed è inaccettabile! Avevo paura che l'avrebbe detto! È come guardarsi allo specchio è così bella! Notevole davvero! Ma a quelle ragazze... Qualcuno conosce la risposta? Ci sono dei volontari? Non io! Tu lo sai? È del tutto incomprensibile! Allora chi vuole provare? Io no! E invece tu! Io? Che sfiga! Buona fortuna! Sei pronta? Bene! Continua pure! Ehi, buona fortuna! Accidenti! Se mi serve non ci capisco niente! Sai cosa? Ti mostrerò un piccolo trucco! Dimentica l'equazione! Grazie al cielo! Dammi quel gesso e guarda adesso! Inizieremo dalle basi, ok? Ancora non capisco! No! È cinque! È cinque! Certo! Mi dia il cinque! Ora calco tutto! Punto cinque dita è facile! Non è ciò che avevo in mente! Sono stata brava? Beh, diciamo! Ecco! Ottimo lavoro! Sono intelligente! Aspetta che lo dica a mia mamma! Ehi, voglio provare anch'io! La prego! Sì! Va bene, vieni qui! Spostati! Aspetta! Oh no! Cambio di programma, studentessi! Niente più passeggiate nel parco! Qui si fa sul serio! Ops! Bene! Chi vuole risolverla? Tu! Davvero? Ho paura! Buona fortuna! Il voto finale dipende dalla tua risposta! E il voto finale! Proprio così! Inizia ora! Via! Va bene! Ti osservo! Fammi pensare quanto tempo ho! Qualcuno mi aiuti! Ho paura! Insomma, non è andata molto bene! Hai fallito! Grazie! Nessuno usa più il cervello e questo significa che tutti i dolcetti sono miei! Deliziosi! C'è così tanto da correggere! Tutti i giorni! Studentessi, che stanno facendo? Ehi! Pensi a quello che penso io? Ho un regalo per lei, prof! È geniale! La so, vero? Non vedo l'ora di vedere la sua faccia! Un altro quattro! Veramente orribile! Ecco qui! Chi è il prossimo? Chi sta ridendo? Pronto? Oh, sì? Ah, certo! Dove sto andando? Scusate ragazze, continuate pure! Aspetta! Ma quello è... Un ragno! Stupida interruzione! Che diavolo! Oh, ciao piccolo! Solo sono la tua nuova mamma! Una gara di ballo questo sabato! Ci sto! Io? La vera fan di Just Dance? Sì, come no! Sky? La miglior ballerina di... Sempre? Sì, in una competizione immaginaria! Max, il ragazzo di Sky, lui è molto carino! Vincerò io! Tesoro, senti, buoni... Ti senti bene? Non vincerò mai! Che ti prende? Ma... Ma sei reale? Sì, posso aiutarti! Ma chi sei? Sarò io a disegnarti a ballare! Svegliati! Dobbiamo esercitarci! Sì, signore! Bene, bene, bene! Andiamo, Emma! Sì! Forza adesso! Puoi farcela! Tesoro, il pranzo è pronto! Quando è che balleremo? Aspetta! Prima prova questo! Fammi vedere! Non ho niente! Devi solo allenarti di più! Hai visto cosa so fare? Dimmi solo se sto facendo progressi! Diamo un'occhiata! Diamo un'occhiata! Beh, diciamo che hai... Uno stile unico! Sono io la prima! Ehi, Emma! Emma! Che botta! Accidenti, Max! Stai bene? Sì, almeno credo! Ma è lei? Ciao! Ehi! Che succede? Lei e Sky vince la gara di ballo ogni anno! Posso avere il tuo doggo? Per favore! Per favore! Per favore! Per favore! Sai cosa ha lei e cosa non hai tu? Talento? No! Fiducia! E poi... E poi... Wow! Che cosa? ehi emma non parlo con te ma perché santo cielo ha detto che sono figa guarda quindi ora mi parli possiamo esercitarci di nuovo ma stavolta niente pressioni ok iniziamo ripeti dopo di me ok proviamo qualcosa di semplice ora questo dobbiamo fare le cose per bene beh ha sicuramente un suo stile unico sì uno stile tutto suo ma che fai sto solo provando qualche nuova mossa no sei pronta uno due tre quattro cinque sei sette e si gira sei impazzita combattiamo signore e signori che la battaglia ha inizio lo hai voluto tu ok forza emma forza puoi farcela forza zoi zoi ok prova questo emma emma è tutto ok hai vinto zoi sei proprio una perdente è stato facilissimo eh già la gara è stasera non vedo l'ora e tu vuoi andarci così ahaha accidenti devi vederlo anche tu ah 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 che figata dobbiamo fare un tic toc ah ok sono pronta sì balliamo ma questo non è un vero ballo ma funziona aspetta dove eravamo oh sì e tu hai vestiti stai bene? sì forse forse dovrei mettere queste pronte? forte! ok ragazze proviamo questa nuova make up routine di soli 99 passi solo 99 passi se posso farlo io potete farlo anche voi stai bene? stai bene? stai bene? stai bene? abbiamo bisogno di un piano B so chi può aiutarci ancora meglio di quello di Sky santo cielo hai ragione grazie allora cosa piace a Max? a lui piacciono le ragazze picche che sanno ballare Emma vieni fuori! no! per favore! no! forza dobbiamo andare! no! bene guarda un po' chi è arrivato e tu gareggerai conciata così e tu ci gareggerai conciata come loro Sky sei la prossima? ci vediamo sul palco non preoccuparti guarda un party Oh, oh, oh che cosa sono rose io odio le rose ma io amo le rose la prossima concorrente immagina di essere nel gioco balla e basta grazie, grazie grazie, grazie ci riproverò il prossimo anno sì, come no unisciti a noi ed ecco una sfida per voi trovate la vostra canzone preferita di Lala Vita fate un TikTok e mettete un link nei commenti così possiamo vedervi il primo giorno nella mia nuova scuola che diavolo ballerini guardate un po' ehi, ragazza nuova sai ballare? certo no, no, no in coppia scusa gara di ballo di coppie devo provare sarà interessante ok, cominciamo il terremoto sky june non abbastanza sta cercando un partner ho bisogno di sforzarmi di più ciao ti aiuterò io chi sei tu? sono un personaggio di Just Dance ti aiuterò io penso di aver sbattuto la testa ieri non ho bisogno dell'aiuto di un personaggio di un videogioco ciao ascolta non ho bisogno del tuo aiuto so ballare sì, dimostralo sei così goffa non sono goffa è colpa tua hai visto il mio... goffa? è colpa tua non sono goffa aspetta ok, ora basta tac se n'è andata ciao sei ancora qui guarda, so ballare sei sicura? ok, mostrami qualche nuova mossa wow, devi allenarti di più ciao ehi ma chi sei? più veloce più veloce più veloce più veloce non fermarti non fermarti ciao kai pizza sto arrivando non così in fretta che cosa? missione ballare per fare la doccia sul serio devi ballare ovunque cos'è questa? è la danza della pipì spostati non importa dove sono le mie caramelle? che cosa? devi mangiare meno zucchero sono in ritardo per la scuola ballare e basta no, no, no posso sedermi adesso? no, metta il preside sei sfaventata? sì sai come sbarazzarti della paura? fammi indovinare ballando sky 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 ah, bene oh, grazie sono perdonata adesso? ovviamente no ho chiamato i tuoi genitori no devi allenarti di più sono stanca niente più musica non so ballare ho un amico lui può aiutarsi senti il ritmo no, no, no no, no stai ballando benissimo idea di una nuova sfida che ne dici di un makeover? no, no, no no, no wow gioco sbagliato no, 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 no questo non è il mio stile è ora di truccarsi conosco qualcuno che può aiutarsi sarò io ad insegnarti come truccarti allora sei pronta? no, no, no sei sicura di potercela fare? non preoccuparti ti mostrerò come fare come ti sembro? abbiamo fatto un ottimo lavoro così luminoso nessuno sa ballare? io sì wow dove hai imparato a ballare così? just dance cosa? quel gioco per perdenti oh sì andrò al concorso senza di te paparazzi chi ballerà con me adesso? lo farò io bene è così veloce ho un'idea ti aiuterò io oh grazie ma perché lo stai facendo? sono la tua più grande ammiratrice wow devi aiutarmi a trovare un partner per la competizione ho un'idea ci vediamo tra un'ora ok? devo prepararmi ho bisogno di un nuovo vestito non preoccuparti ci penso io questo ti sarà benissimo oh dio mio sei stupenda non ha nemmeno un partner no sky grazie 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 buona trovazione ciao posso avere il tuo autografo ti prego certo e posso iscrivermi alle lezioni di ballo sì grazie vuoi partecipare anche tu? ma certo andiamo e voi ragazzi vi piace giocare a Just Dance? ciao ragazzi benvenuti ragazzi sul mio canale scientifico oggi creeremo un colore pazzesco è davvero pazzesco non credete? beh Maya sei la mia studentessa preferita sei fantastica ti serve un po' di veleno secondo me divertiti vediamo il tuo progetto i miei capelli prendi un quadro oh no qualcuno mi ha incastrata oh Rachel stupida nerd oh Polar ha pubblicato una nuova clip guardami sono Spider-Man voglio sparare una ragnatela oh ha funzionato ed ecco un bel caffè ehi oh accidenti guarda cosa hai fatto al mio libro ma sei solo una goccia mi dispiace Maya scusami la lezione sbrigati sono in ritardo correte cretini correte aspettatemi no per favore aspettatemi cosa? ma ho appena attraversato la porta ehi ragazzi scusate ho fatto tardi ehi ci siete sono qui perché nessuno può sentirmi Chris ci sei? ho il cervello in fiabbe ma che è questa roba? ehi che cos'è? ehi chi mi sta tirando roba? mi dispiace tanto ehi Lucy ehi mi senti? Lucy per favore per favore rispostimi terremoto 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 che cosa ti prende? io ma fammi vedere i tuoi appunti no per favore io sono cosa? pulizioni pulizioni mi dispiace Lucy professor Jonathan ops la stupida sedia ehi sono qui mi vedete? piccoli barbocchi chi è stato? cosa mi sta succedendo? oh mamma ho dormito troppo devo andare in aula oh la mia testa cosa? di nuovo tu? mi vedi? certo stupidina perché sembravi così strano? comunque sia io devo andare aspetta solo tu puoi aiutarmi dopo quello che mi hai fatto non esiste ma aspetta che fai? smettila esci dal mio corpo ma che succede? sei più ambigua di me sarai un nuovo meme oh lascia di pace Rachel cosa sta succedendo? via dal mio corpo non riesco a vedere niente queste piaglie erano un regalo di mia mamma ora sei nei guai oh no chi è stato? sei stato tu? no signore tu hai dal presidente di nuovo ok studenti voglio fare un annuncio ci sarà una competizione di canto e sarà fantastico chi se ne frega preferisco fare le mie cose da nerd e il vincitore otterrà una lala borsa di studio borsa di studio wow potrò comprare tutti i libri del mondo maia ci sei? si mi scusi e la vincitrice l'anno scorso era Rachel a proposito vabbè se qualcuno la trova per favore me lo faccia sapere oh oh lei è così bella vorrei essere come lei ma sono solo una sfigata non potrò mai vincere aspetta un secondo non demoralizzarti ti aiuterò io se tu mi aiuterai ad avere indietro il mio corpo affare fatto la vinceremo questa competizione si ok iniziamo subito con la trasformazione scusami cos'ho che non va guarda che foccetta ok iniziamo con le sopracciglia rilassati va bene non preoccuparti non farà male santo cielo cosa diavolo mamma ma quella è una pinzetta volante no è solo una farfalla devono essere questi occhiali si mamma mi sto preparando per la competizione lo ha la lù tesoro hai una voce bellissima devo prendere i miei tappi per le orecchie ok continuiamo no 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 ma allora come faccio aspetta che cos'è proviamo qualche trucchetto al posto dei gadget scusa maglioncino ma mi serve un tuo filato bene ora facciamo due cerchi wow queste pinzette fai da te sono fantastiche posso rimuovere facilmente tutti i peli non credevo ma wow la mia faccia è lississima oh che schifo dobbiamo fare qualcosa e ci serviranno di nuovo le pinzette niente panico questa volta non ti farò del male ma cos'è ehi attenta finalmente oh cos'è secondo me è ancora vivo wow ma era il mio spuntino che buono ora spazzulliamo i capelli e vai sono pronta stai bene credo di avere qualcosa in bocca cos'è? ok iniziamo cosa sta succedendo? oh ha funzionato certo ho bisogno di qualcosa di più grande questo sì che funzionerà wow ora i miei capelli sono così morbidi e seduti ok ora controlliamo i pevisti ok è il mio guardaroba? accidenti è più nerd di quanto pensate ti piace? ma sarebbe un guardaroba? che cosa? non capisco oh no non riesco a vedere niente i miei occhioli aspetta molto meglio a me sembra tutto a posto ok abbiamo un sacco di lavoro da fare è ora di aggiornare i tuoi vestiti pensi di poterlo fare? facciamo un po' di calcoli se prendiamo la creatività A uguale a B e la dividiamo sì possiamo farlo tagliamo la parte inferiore della maglietta bene poi prendiamo le spille da balia attacchiamole qui tutte in fila wow la mia maglietta è così elegante ti piace Rachel? manca qualcosa metti anche questo gilet oh santo cielo sembro Shakira wow eccezionale i tuoi pantaloni oh i miei pantaloni che schifo sono marroni come la cacca ma voglio essere una ragazza alla moda cosa posso fare? ma certo aggiungiamo un po' di colore ai pantaloni della tuta mi piace il giallo wow ora sono così di tendenza questo è ciò che io chiamo moda intelligente mi sento come una pop star cosa ne pensi adesso? beh cosa c'è che non va? con questi occhiali sembri Harry Potter non ne hai bisogno aspetta no i miei occhiali preferiti no non preoccuparti maia ho qualcosa di meglio che ne dici delle lenti a contatto? wow fighissime dai proviamole svita con attenzione il coperchio della custodia la parte più difficile è prendere la lente stessa sì finalmente ok adesso tu andrai nel mio occhio wow quanti colori ora posso vedere sorprendente adesso dobbiamo truccarti sì lascia che ti mostri i miei cosmetici no accidenti il mio fondotinta userò questo pennello no 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 hai rovinato la mia migliore foto è ora di truccarsi sul serio usiamo i miei prodotti sono per me wow incredibile voglio spremere prendiamo del glitter argentato e poi della polvere blu e aggiungiamo un po' di profumo perfetto eh come sto un'ultima cosa wow è come stare tra le nuvole vediamo come sei venuta non ci posso credere sembro proprio una vera pop star ok adesso balliamo andiamo muovi i fianchi in questo modo nessun problema ehi oggi sono inarrestabile oh no attenta tesoro questa casa è infestata cosa non capisco ciao mamma questi fiori sono per te ma come aspetta un attimo questi occhiali sono rotti stai bene sì guarda so cosa devi fare bene andiamo andiamo oh no non conosco le risposte devo sfrigarmi ehi non preoccuparti Rachel ti salverà oh no il tempo è scaduto aspetti no no finito pedia oh hai preso un lotto più congratulazioni figo ma come una cosa buona è fatta sono fiera di te sì il karma sta funzionando che goffa oh povera ragazza so come aiutarti la panna montata è altrettanto deliziosa che bello buonissimo sta funzionando andiamo Rachel siamo in ritardo salve a tutti e benvenuti alla competizione di caldo sì forza la notta prima concorrente maia ciao ragazzi grazie mille grazie ma vai a quella pronta wow wow vai a una maia oh no maia stai bene sì grazie guarda hai riempito tutti i pallini ce l'abbiamo fatta è di nuovo umana è Rachel è tornata Rachel sì wow happy 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 wow eccezionale maia e Rachel sono le migliori e la vincitrice è grande ottimo ce l'hai fatta maia fantastico wow edizionale santo cielo come ho fatto a dimenticarmi il test dov'è il mio foglietto forza abbiamo bisogno di un travestimento sono un genio ora sono pronta per il test wow ma è fantastico cosa stai facendo Reggio sto facendo il test professoressa accidenti che fortuna accidenti che paura buongiorno studenti ora farete un test che cosa un altro test mi serve aiuto il mio telefono bene metterò il telefono qui e disegnerò intorno al telefono bella forma sì e sono pronta per il test e credo di poter ottenere un bell'otto niente quaderni signorina come farò a prendere un otto senza barare ciao ciao telefono oh ho un'idea è ora di diventare furbi gente avanti lavora con me colla che succede laggiù cos'è questa roba la mia mano è bloccata sembra tutto a posto ora dov'ero ci è mancato poco bene devo rimettermi al lavoro applicherò la colla sulla custodia del telefono e attaccherò le matite colorate grande è l'ora del selfie devo avere la giusta angolazione va bene oh sta arrivando mi sembra un po' strano ah va bene c'è cascato il mio foglietto è tornato ok bene bene ok va bene cosa credi di fare? salve è la tua ultima possibilità oh lasciamo perdere questa è la tua ultima possibilità devo bere qualcosa così fresca oh ho un'idea ho solo bisogno di un pennarello e le risposte basterà scarabocchiare sulla bottiglia vorrei aver conosciuto questo trucco prima ecco qua ora stai finché non avrò bisogno di te accidenti ho sete ehi posso avere un sorso? oh certo prendi pure grazie la coca è la mia preferita fammi vedere quella bottiglia io oh guarda cosa abbiamo qui oddio come c'è arrivato lì? vuole riparare? pulizione oh per favore ah finalmente una pausa wow balanga oh 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 cavolo devo riordinare il mio armadietto va bene dei sacchetti di carta colorati e qualche calamita risolveranno questo problema attaccherò il sacchetto di carta con la calamita un altro qui metterò le mie cose nei sacchetti anche le penne e le matite carino eh? ma ricondo sarebbe orgogliosa di me non vedo l'ora di sapere come sono andata al test grazie prof che cosa? un quattro meno? ma come? sono disperata oh conosco un trucchetto per cambiare il voto un colpo qui e un altro qui ah sono così orgogliosa di me? grazie oh punizione oh due ore di punizione non esiste oh che noia oh che cosa posso fare? le penne sono noiose eh? oh sono così annoiata oh che casino userò queste graffette guarda come sono belle oh il signor elefante vuole aiutare e ti attacco carina ma non abbastanza oh no mi sto ancora annoiando le caramelle mi salveranno oh sì un piccolo lecca lecca e una pistola a caldo stenderò la colla sulle lecca lecca ora attaccherò la graffetta sulle lecca lecca molto carina ah e proprio come per magia e ora le matite rendiamole carine terrò la matita in questo modo e metterò della colla calda sulle estremità ci deve essere una quantità sufficiente ok ora attaccherò le caramelle ah che bella cancelleria l'adoro l'ultima rendiamola più brillante applicherò di nuovo la colla ah e ora il glitter verserò il glitter sulla colla oh oh favoloso e se aggiungessi più colori oh sì la fata madrina degli unicorni com'è carina è ora di disegnare una piccola faccina sorridente per te accidenti dove ho messo il temperino forse nello zaino oh che sciocchina ma certo signor tempera matite fammi vedere cosa sai fare gira 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 e tempera spettacolare ora torniamo al lavoro fatto aggiungerò dei colori la pittura d'acquarello sarà perfetta per il mio capolavoro ok oh no il mio disegno come faccio adesso oh io lo so nessun problema basterà del nastro adesivo lo girerò intorno al tavolo e poi lo attaccherò al nastro stesso il bicchiere adesso va dentro bene e una volta finito con il pennello basterà immergerlo nell'acqua e asciugarlo in un bicchiere separato devo iniziare a studiare per il test la mamma sarà felice devo fare geometria fare un cerchio facilissimo ma non sembra ma non sembra un cerchio ci deve essere un altro modo per fare un cerchio matite e forbici attaccherò la matita su un lato delle forbici e poi la stringerò con il nastro ecco metterò le forbici sulla carta e sposterò il foglio finché non otterrò un cerchio che bel cerchio ottimo lavoro andiamo avanti non sono una fan dell'aritmetica ma forse mi devo prima idratare so come fare un bicchiere due bicchieri tre bicchieri quattro bicchieri cinque bicchieri ma che figo ho tutte le operazioni di base facciamolo finalmente ho fatto tutto ehi prof occhi a quello che fai ora devo rimettere tutto a posto ma guarda che casino oh so cosa può aiutarmi una stampante per etichette sì devo accenderla scegliere l'etichetta e stampare ecco che arriva le etichette sono pronte e sono fatti anche tutti i fermacarte ora posso rilassarmi spiegami questo oh no i ragazzi di oggi pensi di potermi fermare oh no non puoi sì la superficie è perfetta per l'arte rimane fermo per favore cos'è stato questi ragazzi hanno sempre qualcosa in mente ci è mancato poco com'è caldo qui l'aria condizionata non funziona oh ottima idea vai via ho bisogno di spazio per la mia invenzione c'è qualcosa che il nastro adesivo non può fare attaccherò l'altra estremità qui e lo tirerò giù e ho un bel ventaglio di carta ah bello e funzionale molto meglio che noia non so che fare forse c'è qualcosa nello zainetto che potrà aiutarmi vediamo una penna wow com'è bella ma guarda che colore wow è una calamita non cadono nemmeno se le scuoti cos'altro può fare bene sembra una trottola cosa succede se la giro wow ragazzi levita è una trottola levitante wow opsì lasciamolo riposare per un po' oh no ho un test oh 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 ehi pixie aiutami ho bisogno di un supporto per il mio telefono certo figo toglierò di mezzo questi capelli metterò la custodia del telefono sotto la maglietta ora metterò il telefono nella custodia perfetto sono pronta per il test ah cos'è no? ok aspetta pixie solo un altro po' così nessuno lo vedrà prima che ti veda forza quattro un altro quattro ecco cosa succede se i ragazzini giocano troppo ai videogiochi incredibile cos'è tutto questo rumore? cosa sta succedendo? mi fai solletico Rachel sbrigati molto sospetto oh no va tutto bene? sì sì quasi fatto e tu? quasi fatto ok fammi vedere oh accidenti fa che sia un otto per favore ben fatto ecco il tuo test oh veramente? sì adesso vedrai hey Rob no non è mio telefono oh lea il trucco della mamma il trucco della mamma lea ho bisogno dei cioccolatini per la festa allora cercali dirò a papà del tuo ragazzo lea 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 te l'ho detto sarà la mia festa porto il cane a fare una passeggiata mi sono persa il cane mi sono persa il cane mi devo fare una doccia che cosa? qualcuno è in casa? un ladro ho trovato il cane è noturno oh 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 no, è per gli ospiti solo una ti prego ho detto no lea Rob, hai visto la mia borsa? oh, l'ho trovata trovata, trovata lea, Rex sono sicuro che sta bene cosa dovrei indossare? sicuramente non questo perché non potevo avere una sorella? oh, ma ne avevo uno uguale lea, toglila vendetta sono lea e sono bella ho un ragazzo questa è la mia maglietta preferita ehi, questa è mia no ho sempre voluto scoppiarli ehi, sai che dovresti prenderti più cura della tua pelle? occhio, questi rufoli stanno per esplodere oh, figo perché sono tutti così rilassati? oh, no è un incubo domani ci sarà un test un test? domani? ma nessuno importa stanno giocando tutti oh, com'è gommoso scoppiati e guarda quella scopingo voglio rilassarmi anch'io il pluribull funziona sempre il suono è così rilassante i miei giocattoli sono migliori dei tuoi guarda questo per favore, abbi pietà domani c'è un test i miei capelli stanno sempre a posto vabbè, ci si vede non ho più tempo da perdere devo prepararmi per il test ma sono così stressata devo rilassarmi forse un figgettoi potrebbe aiutare ma non ce l'ho che cos'è questo? beh, scopriamolo sono sicura che a papà non dispiacerà wow forse posso creare da sola qualche giocattolo è ora di fare un po' di magia non ho mai visto così tanta schiuma da barba come è soffice grazie a Dio e ora? beh, un po' di colore ovviamente mescolerò il giallo col blu sarà come una festa arcobaleno aggiungerò degli altri liquidi e andrà tutto dentro fino alla fine tanto papà potrà sempre acquistarne degli altri ah ah ora serve una frusta e un po' di improvvisazione wow come stanno bene insieme tutti questi colori wow 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 verde come il Grinch mi ricorda un po' il moccio facciamo il controllo della qualità ah, si allunga tantissimo uh e aggiungerò alcuni spuntoni per renderlo ancora più divertente uno slime con grande personalità ah, anche se sembra più un mostro ed ecco che ahi, ahi, ahi oh, un palloncino ho un'idea mi sento proprio come un vero scienziato metterò una goccia di glitter viola per renderlo più allegro ma sai che c'è? ci metterò l'intera bottiglietta e ora la parte migliore la colla glitterata ah, piano non voglio versarla ah, eh, fatto oh, così gommosa ma manca qualcosa ah, fatto sapevo che prima o poi questo calzino mi sarebbe tornato utile ecco una palla gommosa realizzata da me ah, ah, che figata ah, eh, no questa palla qui non scoppia mica ah, ah ah, oh, che puzza devo oh, oh, eh oh, ah ma che c'è dentro? spazzatura o un tesoro? scopriamolo un pacchetto di gomme da masticare è un vero tesoro uno, due, tre, quattro, cinque mi ricorda qualcosa tu aspetta qui questo mais non si mangia mica it's me, hi